C'è la musica di noi unica con Club Rotation Ciao ragazzi, bentornati a Club Rotation Dance Charts La classifica musicale Dance di Pitos Vi ricordo il nostro appuntamento fisso ogni primo sabato di ogni mese alle ore 21 qua sul mio canale Cosa vedremo in questa puntatura stupenda di Club Rotation? Allora, vi dico già che torneremo indietro nel tempo Andremo negli anni 2000, i mitici anni 2000 Quali musiche si ascoltavano? Ebbene, io ho selezionato 3 canzoni, spero che vi piacciono Se siete pronti, possiamo iniziare Let's go! Alla posizione numero 3 della nostra classifica troviamo i Venga Boys Vi ricordate quel gruppo danese che negli anni 90 l'ha fatto quella super hit? Boom 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 Ebbene, negli anni 2000 hanno portato una nuova canzone La canzone si chiama Kiss When Stand On Shine Il video è molto carino e la musica è molto ricchiabile È stato girato in Giappone ed è veramente uno spettacolo molto divertente questo video Ve lo posso assicurare Quindi vediamoci subito in posizione numero 3 della Club Rotation Dance Charts Venga Boys con Kiss When Stand On Shine If you're up to your video, add musica a love harina di ghibelli Anche bar che virgo che vengco mi spettacolo molto divertente Anche bar che vengco mi schifo mi smettacolo molto forte Anche bar che vengco mi spettacolo molto divertente Anche bar che vengco mi spettacolo molto più zebrano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti